Oh oggi ci dedichiamo gli appuntamenti vediamo cosa ha dato Sì 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 non è che la patacca fa sulla piazza non è che siamo vestiti sistemati non è che la patacca fa Grazie a tutti. 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 Yeah, hello? I'm curious about a lot of things. What? Va bene, Amanda... Va bene, Amanda... ... 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